Occhio ai giornali, la rassegna di FanoTV che come sempre comincia con l'augurarvi una buona giornata, una piacevole mattinata, oggi è sabato 4 giugno 2022, oggi per chi ci segue da Fano c'è il carnevale, il carnevale oggi è domani, è una giornata dunque di festa, una giornata nella quale insomma Fano propone uno dei suoi cavalli di battaglia che è il carnevale che negli ultimi anni ovviamente per le ragioni che conosciamo è stato un po' penalizzato, però insomma teniamo duro come si dice e mentre molti carnevali sono stati annullati nel corso della stagione invernale Fano tenta in qualche modo di tenere sveglia e viva questa bella tradizione, allora intanto cominciamo dal santo del giorno come di consueto, anche perché se si possono fare degli auguri di buon onomastico non guasta mai, motivo è anche per poter fare qualche telefonata a qualche amico che per esempio si chiama Francesco, San Francesco Caracciolo, uno dei tanti santi che la Chiesa ricorda oggi, il sole è sorto alle 5.25 e tramonterà alle 20.47 minuti. Allora dove ci sarà questo carnevale oggi? Lo vedremo poi tra poco nei giornali, in Piazza 20 Settembre e la telecamera che abbiamo scelto questa mattina per mostrarvi le immagini in diretta, sono le 7 e qualche minuto, è proprio Piazza 20 Settembre che questa mattina si presenta così come ogni mercoledì e sabato. Oggi è giorno di mercato a Fano e questa è la piazza centrale con una veduta, un colpo d'occhio certamente inusuali, non so quanti di voi abbiano visto mai la piazza da questa prospettiva. Ebbene eccola con tanti teli, una piazza quasi totalmente coperta dai teli che sono i teli sotto i quali ci sono appunto gli ambulanti che stanno predisponendo le loro bancarelle. Vedete ancora non c'è molta gente a Fano ma tra poco si animerà di tante persone anche perché comincia a essere già caldo, il sole è alto, vedete. Anche se c'è un po' di foschia, stavo facendo notare proprio al nostro regista Riccardo Sora che in fondo se guardate in alto nella cornice del vostro televisore in cima dove ci sono i tetti, là dietro vedete si intravede qualche sagoma di monte, di collina anzi. Ebbene non è nitida perché? Perché c'è la foschia addirittura. Siamo a giugno e ancora c'è foschia che arriva addirittura dal mare, per fortuna è alta, però ecco copre, vedete. E questa è la situazione. Allora adesso andiamo a vedere invece il tempo, il tempo previsto per la giornata di oggi e nei prossimi due giorni, ma c'è poco da dire perché il tempo sarà sereno, le temperature ancora insomma buone con caldo su tutta la regione, oggi anche domani, solo un po' di novolosità domani sul Crenale Appennini, con lunedì un'altra giornata e un'altra settimana che si apre con il sole, ma attenzione perché poi nella giornata credo di martedì, mercoledì invece ritorneranno i temporali perlomeno sul nord delle Marche, ma poi saremo più precisi lunedì. Vediamo allora i titoli e le pagine principali dei due quotidiani, il Carlino e il Corriere. Partiamo dal casco gigante firmato Vale. Questo casco gigante, quest'opera sarà realizzata in piazzale d'annunzio a Pesero, alta 4 metri, perfetto anche per fare i selfie. Un'altra di quelle cose pensate dall'amministrazione di Pesero che continua a voler stupire, a cercare cose per attirare gente. Statue greche rubate, ce l'ha svolta, sparirono da piazzale Matteotti, sempre Pesero parla al PM Cecchi, l'ultimo dei testimoni e ora una delle sculture potrebbe tornare. Il nuovo arcivescovo di Pesero Salvucci accanto ai ragazzi degli oratori è andato incontro agli altri. Questo è successo appunto in un incontro recente con i giovani. Poi poliziotti aggrediti, l'Ucraino patteggia, gli agenti chiedono i danni. Autisti extundo in attesa degli stipendi, appello ai comuni, mentre a Urbino il Duca torna a casa dopo 22 anni, l'abbraccio della città. A Fano affitta un'abitazione ad uno straniero senza però il permesso di soggiorno, scatta la confisca dell'appartamento. Poi lo sport, Banchi pensa alla Lettonia, ma la VL spera, il futuro del coach. E poi l'attaccante bosniaco con il figlio Al Kemp di Pesero, Milan Juric, dalla Vis un giorno, dice tornerò qui. Mentre il Corriere Adriatico, edizione di Pesero, apre con la fotonotizia del casco da 4 metri per Rossi. Sarà installato in piazzale d'annunzio, lo inaugura appunto lo stesso Valentino nel mese di luglio. Pronto soccorso appalto al via Marche Nord ricorre ad un'agenzia esterna per coprire 210 turni in tre mesi a partire da luglio, anche perché sappiamo che c'è il problema del personale, c'è un fuggi-fuggi nel pronto soccorso, per cui bisogna ricorrere a questa agenzia esterna che servirà per mantenere il servizio. E' infatti l'ultima spiaggia per la continua fuga dei medici, si rischia l'interruzione infatti del servizio pubblico. E ancora caporalato, 3 euro all'ora, niente riposi e turni da massacro. A Gabici, a Pesero per il super bonus, imprese in allarme, saltano i cantieri. A Pesero sempre il lungomare Sauro, pronta l'ordinanza contro il degrado. Sotto monte invece la spiaggia resta libera e selvaggia, niente più noleggio di lettini e ombrelloni. Il comune di Pesero sta valutando invece per, che cosa fare su, per Fiorenzuola. Carnevale dei bambini, un weekend di iniziative. Iniziamo allora dal carnevale, anche per darvi qualche ragguaglio con gli orari e quant'altro. Lo facciamo grazie a questo articolo che pubblica oggi sulla pagina di Fano il Corriere Adriatico, a firma di Massimo Fughetti. Allora, il titolo è C'è il carnevale dei bambini, animazione e festa in centro. Sfilano due carri allegorici con tante attrazioni. Domani pomeriggio si replica, si parte però oggi alle 17 in piazza 20 settembre con la partecipazione della Musica Arabita e del Corpo Bandistico di Cartoceto che si esibiranno in un corteo di allegria. La sfilata dei carri di seconda categoria sarà il fulcro della giornata di oggi grazie alla presenza del carro Fano la Divina, realizzato dai ragazzi del liceo Nolfi a Polloni. E poi c'è un altro carro che si intitola Amore, Arte e Poesia, realizzato dal Comune di Gradara. Per ammirare invece i carri di prima categoria, perché per chi non lo sapesse, ma già si può andare per deduzione, quelli di seconda sono un po' più piccoli, mentre chi conosce il carnevale di Fano per la maestosità di questi carri dei giganti di Cartapesta, è ovvio che quelli sono di prima categoria, ma per vedere quelli bisognerà aspettare la sfilata di Ferragosto che si terrà sul lungomare di Sassonia. Oggi in piazza 20 settembre si comincia con questa Musica Arabita eccetera eccetera, mentre a Ferragosto poi ci sarà la sfilata, la presenza di questi carri grandi di prima categoria. Poi ovviamente l'augurio è che nel 2023 si possa partecipare di nuovo in Viale Gramsci alla tradizionale sfilata con la suggestiva e unica, penso al mondo, unico oggetto dei dolciumi, quintali e quintali di dolci, caramelle dai carri. Ma c'è un altro aspetto che giustamente Foghetti sottolinea questa mattina sul giornale, è che mentre da una parte l'ente carnevalesca con a capo Maria Flora e Gian Marioli stanno organizzando, mettendo a punto gli ultimi dettagli per l'organizzazione di queste due giornate, oggi e domani e poi quella di Ferragosto come dicevamo, dall'altra c'è invece Fermento perché sapete che scade il mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione, quindi anche la presidenza Gian Marioli. E si sta, scrive il giornale, mentre l'attuale Consiglio è impegnato in queste iniziative, a latere ferve la lotta per il tesseramento. Quest'anno infatti scade il mandato triennale del direttivo e a competerne la rielezione, si è formata una lista concorrente con a capo il noto cantante e animatore Fabio Barnesi che propone forti cambiamenti. Adesso invece la pagina 19 è sempre del Corriere Adriatico perché c'è un'altra iniziativa che ha riscosso, direi, un ottimo successo e che riguarda sempre l'estate fanese. I locali ospitano gli artisti, così si rilanciano le attività. Tornano le animazioni del mercoledì sera, allargate dall'area del centro fino adesso alla zona del mare, quindi non solo più il centro storico ma anche la zona del mare. La formula è semplice, quasi in sequenza per evitare sovrapposizioni. Una decina di locali della zona del mare e del centro storico di Fano proporranno per tutta l'estate, ogni mercoledì, iniziative artistiche e musicali. Tornano per la terza volta a partire dall'8 di giugno, i mercoledì degli artisti che quest'anno si arricchiscono di nuove esibizioni e quant'altro. Quindi anche questo io credo sia un bel appuntamento, soprattutto per chi vuol trascorrere qualche ora d'estate, magari all'aria aperta, dopo cena, fare due passeggiate, ascoltare un po' di buona musica e mangiarsi un gelato. Rafica di incidenti, invece, quattro in poco più di due ore, conseguenze leggere, per fortuna, per le persone coinvolte, tra cui anche un ciclista che è caduto. La pagina di Fano, invece, del resto del Carlino, Acqua pubblica, così blindiamo la gestione, è una proposta di legge di Marta Ruggeri dei 5 Stelle che dice ridurre gli ambiti territoriali da 5 a 2. Sullo sfondo c'è il no alla fusione di Aset in marche multiservizi. Allora, è un articolo di Anna Marchetti che andrebbe letto con attenzione. Comunque, in sostanza, cerco di spiegarvelo velocemente, in sostanza, la Ruggeri con il suo gruppo, insomma, vorrebbe, con questa proposta di legge, ridurre gli ambiti territoriali, i famosi Ato, da 5 a 2. Questo per, qual è la strategia? Cioè, serve per blindare la gestione pubblica dell'acqua, cioè per evitare che la gestione dell'acqua, che è un bene pubblico, l'acqua è un bene pubblico, passi in mani private, magari con delle gare, eccetera, eccetera. Perché? Perché poi, naturalmente, passando a queste società private, il rischio è quello del lucro, ma il privato cerca solo quello. Invece, se rimane in mano alla gestione pubblica, insomma, è la questione diversa. Ecco, quindi viene un po' discusso su questo argomento, e quindi anche la strategia, se vogliamo, perché è una strategia per fare in modo che Aset continui a gestire, nel caso di Fano, ovviamente, l'acqua pubblica, e non vada in mano, magari dopo essersi fusa con Marche Punti Servizi, vada in mano a chissà chi. La scuola c'è, invece, ma manca la strada. A Cucurano di Fano servono 500 mila euro per realizzarla, bisogna collegare, infatti, via Dubcek con la statale Flaminia. È urgente, visto che sorgeranno in quell'area, appunto, un nido e una scuola d'infanzia, quindi, naturalmente, con il conseguente traffico e via vai di automobili che poi andranno a portare e a riprendere i bambini da scuola. Affitta ad uno straniero, invece, che senza permesso la sua abitazione, lo Stato adesso le confisca la casa. Sotto processo, la proprietaria dell'abitazione a Fenile, Fenile di Fano, aveva accolto un albanese trovato dalla polizia a spacciare droga. Nuova udienza, praticamente, tra sei mesi. Andiamo a Pesaro adesso. Il super casco di Valentino svetterà a luglio a Levante e sarà Rossi ad inaugurarlo. L'opera alta 4 metri, collocata in piazzale d'annunzio, il 25, dunque, grande festa. Allora, andiamo a vedere nel dettaglio questo articolo di Thomas Delbianco sul Corriere Adriatico. Un casco da leggenda, così è stato definito e pensato, ideato dal coordinatore degli eventi del Comune di Pesaro, Massimiliano Santini, e realizzato da Riccardo Sivelli di Extra Lab. Allora, dunque, parliamo di un casco di dimensioni mai viste, dice Santini. I materiali di cui sarà composto variano dal polistirolo, espanso, al legno, al ferro, a resine. L'opera avrà un'altezza di 4 metri e una larghezza di 6. Una particolarità, attenzione, che renderà il progetto più caratteristico e anche unico è praticamente la possibilità di stampare la visiera del casco, di questo casco gigante, in oleogramma 3D. Così facendo, le persone che si ritroveranno davanti a questo monumento, tra virgolette, avranno la netta percezione, pensate, di osservare gli occhi di Valentino Rossi trasparire in maniera realistica da dietro la visiera. Un grande colpo d'effetto. Quindi sarà tutto da scoprire, tutto da vedere. Anche il Carlino, ovviamente, oggi dedica una pagina a questa iniziativa, a questa idea partorita dall'amministrazione di Pesaro con il campione di Tavuglia, che il 25 luglio arriverà per l'inaugurazione, sarà il più grande del mondo, rappresenterà un richiamo turistico importante per dare forza al lato sud di Viale Trieste. Sarebbe curioso capire com'è la presa la sindaca di Tavuglia, si è fatta sfuggire questa idea. A fare da sfondo è un circuito di minimoto, cioè dove sarà collocato. Andiamolo a vedere qua, eccolo. Praticamente questo è il progetto dove viene mostrata la collocazione in piazzale d'annunzio di questo casco gigante. Questa è una pista, chiaramente una pista per moto, come dicevo, giocattolo, pensato tra le attrazioni estive che faranno di questo piazzale un'area destinata all'intrattenimento formato famiglia. Il casco gigante sarà un richiamo turistico, però, che abbellisce tutto il lato sud di Viale Trieste. Sottomonte, invece, restando più o meno da quella parte là, Sottomonte stoppa i servizi. Quest'anno, infatti, la spiaggia sarà di nuovo libera e selvaggia. Nessun bando di gestione, scrive Letizia Francescoli, per il servizio di noleggio di Lettini. Ombrelloni a Sottomonte, così come era stato nelle due stagioni dell'emergenza Covid. Ricorderete il problema con i due anni di pandemia di dover allontanare, distanziare anche gli ombrelloni al mare. Cose che viste oggi, insomma, appaiono veramente per quello che erano e quello che continuano ad essere, un po' una follia. Però, vabbè, come senso unico a Pesero, sono tutte quelle cose di cui, non so se ridere più avanti, rideremo più avanti, ci faremo una grassa risata, oppure ci metteremo a piangere dalla disperazione per dire, guardate, siamo stati ebeti a seguire tutte queste follie. Però, vabbè, comunque, oggi le raccontiamo, anche perché ancora non ne siamo usciti, insomma. Però, comunque, torna la spiaggia libera. Torna la spiaggia libera, quindi a Sottomonte, non ci saranno più organizzati i servizi, quindi uno va lì, se vuole star lì, butta giù, stende l'asciugamano e si prende il sole beattamente, senza problemi. Mentre gli altri due anni, come dire, per ovviare il problema degli spazi nelle spiagge in concessione, si è occupate anche quelle libere per dare, appunto, modo di... anche a quelli che erano rimasti esclusi di poter usufruire di questi servizi. Invece, sulla pagina, vedete, sempre adesso il carino, quest'articolo di Maurizio Gennari lo trovo molto interessante. Non sapevo di questa cosa, anche perché è un fatto che è accaduto negli anni 70, se non ricordo male, dove c'erano... no, anzi, anni 60, ecco. Quindi, siccome sono state queste statue greche trafugate, rubate in piazzale Matteotti a Pesaro, dopo decenni e decenni parla un testimone, l'unico rimasto, e, insomma, potrebbe... che potrebbe dare una svolta a queste indagini. Perché ancora c'è qualcuno, evidentemente, che ha continuato a cercarle queste statue. Statue in marmo, altezza Duomo, trafugate alla fine degli anni... ecco, qui dice 70, sotto nel sommario 60, vabbè, comunque, 60-70, fate voi una media da piazzale Matteotti, potrebbe rientrare una di queste statue in città. Perché dopo settimane e settimane passate a raccogliere testimonianze, viaggiando tra Pesaro e Rimini, pare sia improvvisamente aperto, si sia aperto uno spiraglio. A missioni da parte dell'unico testimone sopravvissuto a quei giorni, quando un camioncino, arrivato da Rimini, prese le statue, le caricò, le portò in Romagna, prima che svanissero, poi nel reticolato dei trafficanti di opere d'arte. Ora, chi è questo unico testimone vivente? Allora, l'unico testimone vivente si chiama Leon Lorenzo Loretti, oggi ha 85 anni, al tempo dei fatti, aveva un negozio di antiquariato accanto all'ex cinema Duse in Via Petrucci. Ma perché la figura di Loretti è centrale? Attenzione, scrive Gennari, La mamma di Loretti è una Paolucci, una famiglia di origini urbinati, con diramazioni sia a Pesero che a Rimini. L'esponente più noto di questa famiglia è l'ex ministro della cultura Antonio Paolucci. Loretti è cugino di Pietro Paolucci, riminese, antiquario, ed è lui, assieme a Maurizio Balena, un altro personaggio che ha avuto un ruolo nel ritrovamento dei quadri rubati a Palazzo Ducale di Urbino, e anche con la statua dell'Esippo di Fano, il quale partecipa alla sparizione delle statue. Ecco, e poi non vi voglio svelare altro, insomma, se vi interessa questa vicenda, potrete leggerla questa mattina sulle colonne, sul giornale, il resto del Carlino. Intanto, ritorna, un grande ritorno, accolto con festa e, perché no, anche emozione, perché basta lavorare un po' di fantasia in questi casi, è il ritorno del Duca dopo 22 anni ad Urbino. La cassa è arrivata all'Ateneo di Pisa in mattinata, la bara, scortata dalla Polizia Municipale, è stata riportata al mausoleo di San Bernardino. Il Vescovo Tani dice oggi gli siamo grati anche per tutta la bellezza che ci ha lasciato, è il fratello di tutti noi. Ecco, quindi, questo è un po' il racconto, vedete le immagini anche della cassa in rovere con i resti del Duca trasportati fino al mausoleo di San Bernardino, e poi la cassa qui in cattedrale. Immagino, ecco, queste immagini che, insomma, sono belle e anche emozionanti. Andiamo a vedere, invece, adesso l'altra pagina di Urbino, ma del Corriere Adriatico, la più grande lezione del Duca Federico, la mostra sul passato che parla del presente, inaugura alle 16 sapienzia, pietas e ozium all'oratorio della grotta della cattedrale e al museo di Ocesano Albani. Mentre anche qui, un piccolo trafiletto per dire che dopo 22 anni tornano le spoglie, sono rientrate ieri ad Urbino dopo un'assenza di 22 anni i resti mortali del Duca, un rientro voluto fortemente dal sindaco Maurizio Gambini. E per onorare questo rientro l'amministrazione comunale di Urbino e la diocesi hanno organizzato in cattedrale una messa celebrata dall'arcivescovo Giovanni Tanni alla presenza delle autorità civili e militari. I resti arriveranno direttamente dal Dipartimento di Palopatologia dell'Università di Pisa dove saranno stati studiati per anni dal professor Gino Fornaciari e dal dottor Antonio Fornaciari. Insomma, vedete quanta storia, quanta bellezza dietro a queste cose. Allora, gli autisti invece, cose molto più terra-terra e gli autisti ex Tundo dicono, aspettiamo ancora gli stipendi, parliamo della ditta che aveva in gestione gli scuolabus che portavano i nostri ragazzi nelle scuole delle nostre città. Lettera dei dipendenti, i comuni devono sostituirsi alla ditta per gli arretrati, ma finora da Pesero è arrivata soltanto una mensilità. Avevamo avuto rassicurazioni, d'altronde abbiamo lavorato per garantire il servizio. È un articolo di Tiziana Petrelli che racconta anche un po' la forte preoccupazione di questi dipendenti di questa azienda che a un certo punto non hanno avuto più gli stipendi, neanche gli arretrati. in corsa, quindi durante l'anno scolastico i comuni in fretta e furia hanno fatto di tutto per cercare di garantire il servizio, hanno detto vabbè prendiamoli noi, eccetera, però a quanto pare hanno preso i mezzi ma ancora devono pagare chi li ha guidati. Ragazzi, usciamo da noi e andiamo. Sono gli altri la nostra ricchezza. Sono parole del nuovo arcivescovo di Pesero Sandro Salvucci ieri sul prato del campo di Loreto assieme a centinaia di ragazzi degli oratori dell'Arcidiocesi che lo hanno accolto assieme ai sacerdoti con canti e un momento conviviale finale. L'invito dell'arcivescovo ai ragazzi e alle ragazze degli oratori ieri a Loreto siete l'arcobaleno. L'Ucraino patteggia, gli agenti chiedono i danni. L'uomo che ha aggredito quattro poliziotti, la ricorderete la notizia che abbiamo letto anche ieri sempre dai giornali dopo un incidente in via Timavo la difesa ha concordato una pena di sei mesi di reclusione. Poi invece al parco Miralfiore a Semprapesero lite violenta tra due nordafricani e uno si rifugia nell'auto praticamente dei vigili. Discoteca Trappola parliamo della discoteca di Corinaldo nove persone a giudizio chiamate a deporre 1300 testimoni prima udienza del processo ai colletti bianchi per le autorizzazioni alla lanterna azzurra. Poi la cronaca sempre da Senigallia carambola con tre veicoli ferita anche una bambina di sette anni di Ostra nulla di grave per fortuna l'incidente è avvenuto ieri verso le 5 del pomeriggio lungo la Corinaldese. Poi uno scontro invece sempre da Senigallia tra un'auto e una moto un 17enne che finisce all'ospedale è a un 17enne di Montemarciano che ieri era appunto in sella alla sua moto ed è rimasto ferito ieri mattina dopo uno scontro con un'auto avvenuto in via Capanna all'incrocio con via di Vittorio mentre ricorderete la notizia di quel trentenne indiano che si era gettato in acqua per fare il bagno questo ragazzo a un certo punto ha rischiato di annegare nel mare di Marzocca vicino Senigallia il ragazzo è stato poi portato nelle ambulanze al Torrette di Ancona e ora il Corriere Adriatico ci informa che è ancora in rianimazione c'è una vicenda la pagina 24 che arriva da Maioati Spontini è una vicenda che è finita anche in televisione chi l'ha visto eccetera eccetera non c'è tempo per approfondirla spero che con i titoli il suo barrio si riesca a capire qualche cosa qualcuno probabilmente già conosce questa brutta storia comunque Simone dice mi sento in colpa per Andrea un'auto misteriosa e una speranza social il fidanzato della ragazza scomparsa che è l'unico indagato dice non l'ho fermata spuntano però due indizi un testimone l'ha vista salire in una vettura poi rimasta coinvolta in un incidente sotto invece una foto pubblicata su Facebook è spuntato un like con una firma strana sembra sempre stata brava a clonare i profili detta così probabilmente non si capisce in granché però adesso non ho il tempo di approfondire perché sono già perché ci seguo in diretta alle 7.26 quindi Talita Frezzi ha ricostruito un po' le ultime le ultime ore quindi potrete leggere questa vicenda sul giornale intanto pronto soccorso al via l'appalto a un'agenzia indetta da Marche Nord la gara per la copertura in tre mesi di 210 turni fuga di medici atto straordinario per evitare l'interruzione del servizio questa è invece la pagina 1.14 dove si parla del blocco dei crediti e quindi blocco dei crediti per quanto riguarda le ristrutturazioni delle case e quant'altro super bonus molti cantieri rischiano di chiudere la CNA con Bordoni e Baldarelli lancia l'allarme un paradosso questo mentre cresce la richiesta di ristrutturazioni l'indagine è fatta come associazione rivela un quadro preoccupante servono degli interventi poi commercialisti il consiglio a guida Lucchetti consegnati anche i sigilli ai 15 nuovi iscritti all'ordine dopo l'elezione del presidente Marco Lucchetti al lavoro anche il nuovo consiglio dell'ordine dei commercialisti di Pesaro e Urbino Enrico Maria Renier vice Silvia Vaselli segretario Alessandra Rubinacci tesoriere e poi c'è tutta una sfilza di nomi che potrete leggere così magari avete vedete se c'è anche il vostro commercialista per chi ce l'ha poca mano d'opera invece a rischio i raccolti di uva olive e frutta Taddei presidente della Ciamarche tra un mese entreremo in forte difficoltà gli agricoltori dicono riuscire a reperire personale sta diventando un calvario il caro gasolio cancella 74 aziende di trasporto e con questo finiamo qui concludiamo qui la nostra occhiata ai giornali che torna lunedì mattina alle 7 puntuale con la conduzione di Massimo Foghetti per tutta la settimana grazie per averci seguito stasera 7 per occhio ovvero il magazine con tutto il riepilogo delle notizie più importanti della settimana a me non resta altro che augurarvi dunque un buon fine settimana a tutti arrivederci a me non resta la settimana